L'Abruzzo ha accolto con grande partecipazione di tecnici, architetti, geometri e ingegneri la tappa di Pescara di infoprogetto.it, il ciclo di workshop dedicato alla progettazione e al risparmio energetico. Oltre 300 tecnici hanno partecipato alla giornata di lavori del 19 ottobre 2017 presso l'hotel Serena Majestic. Ha cominciato l'architetti Natale Raineri che nel suo intervento ha parlato della riqualificazione degli impianti natatori in Liguria per poi proseguire con un denso programma di interventi, anche da parte di imprese che hanno presentato i loro prodotti e le loro soluzioni più innovative. Un sistema per poter schermare l'edificio, però all'interno di una vetrocamera isolante, ovvero sia un sistema che a differenza delle classiche schermature presenta manutenzione a nulla, quindi non abbiamo necessità di lavare il prodotto, di pulirlo e al contempo garantisce un fattore solare che raggiunge quasi quello delle schermature per esterni, quindi anche dal punto di vista delle prestazioni con un vetro molto semplice siamo in grado di fornire isolamento termico estivo di primo livello. Ecco, un prodotto semplice in realtà non ci sembra affatto banale perché è una tecnologia vostra che vi consente anche di trasformare una superficie trasparente in una superficie opaca con un semplice tocco di un gesto. Sì, diciamo che è semplice perché comunque il concetto della veneziana è un concetto che ormai si conosce da qualche anno, però sicuramente non tutti sono in grado di fare quello che facciamo noi, ecco, ci vuole una certa esperienza, una certa inventiva, grazie anche a un brevetto europeo siamo molto forti su un prodotto in particolare, ovvero sia sulla tenda veneziana motorizzata, soprattutto a batteria e sì, riusciamo a fare anche questo, quindi garantire privacy, garantire controllo solare e garantire illuminazione naturale quando è possibile. Ci troviamo in una giornata particolare perché sono arrivati molti progettisti, geometri, ingegneri, architetti, cosa ne pensi della giornata? La giornata è andata benissimo, penso oltre le aspettative, nel senso che credo siamo sulle 300 presenze, quindi molto molto importante a livello di risultato, domande come spesso ci capita in questi eventi molto intelligenti, molto precise e mai banali, che è la cosa più importante, che ci stimola sempre.